Salve ragazzi, nella video guida di oggi vi mostreremo come fare in modo che venga eseguito automaticamente l'avvio di Windows 8 un'applicazione della nuova interfaccia di Windows 8. Per prima cosa dobbiamo individuare il nome dell'app, per farlo quindi dobbiamo accedere al registro di system, quindi premiamo Windows R, tasto Windows PR e si aprirà la finestra esegui, quindi digitiamo reg edit e premiamo invio. A questo punto accedete in hk current user, poi software e quindi classes. Vi compariranno varie cartelle, voi dovete individuare queste cartelle quelle dell'app, ad esempio Bing News. Vediamo il nome dell'applicazione tramite il valore predefinito che nel nostro caso è Bing News. Nell'articolo troverete in ogni caso i nomi delle applicazioni installate di default sul sistema operativo. A questo punto quindi creiamo un nuovo collegamento sul desktop e digitiamo la stringa che trovate anche all'interno dell'articolo e al posto del nome dell'app, inseriamo il nome che abbiamo trovato nel registro di sistema, quindi Bing News. State attenti a non cancellare anche i due punti presenti alla fine e inoltre digitatele nuovamente a mano i doppi apici poiché facendo copia e incolla potrebbero essere copiate altri tipi di caratteri. Quindi clicchiamo su avanti, mettiamo il nome del collegamento, Bing News e quindi clicchiamo su fine. A questo punto accediamo alla cartella esecuzione automatica avviando sempre la finestra esegui, Windows R e scrivendo shell2.startup e quindi spostiamo il collegamento in questa cartella. A questo punto riavviamo il sistema e faremo vedere come l'app News verrà avviata automaticamente al prossimo avvio. Nel nostro caso, come potete vedere, al successivo riavvio è partita in automatico l'app applicazione Google News. E con questa la nostra video guida è terminata. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci su www.we-tech.eu e alla prossima!